Video sorveglianza Bassano, croce e delizia di ogni amministrazione comunale. Croce perché spesso vi abbiamo raccontato di problematiche tecniche nel sistema. Delizia perché sbandierato nelle campagne elettorali tra i punti dedicati al tema sempre sentito della sicurezza. La centrale operativa di via Vittorelli riceve in tempo reale le immagini trasmesse dagli obiettivi del grande fratello comunale disseminati lungo le strade bassanesi. E ora la Giunta ha deciso di implementare l'impianto di video sorveglianza puntando l'attenzione. In questo caso sarebbe meglio dire l'occhio elettronico su alcuni punti sensibili della città. Questo progetto prevede 10 nuove telecamere che verranno installate nei prossimi mesi e che coprono alcune zone particolari da un punto di vista viario piuttosto che per la frequentazione. Quindi avremo delle telecamere in Piazza Castello, una telecamera in Parco Ragazzi del 99. Queste due in particolare ci tengo molto e le ho inserite molto volentieri all'interno del piano. E poi mi sono stati segnalati alcuni altri luoghi, ad esempio quartiere Pre nella nuova rotonda, e questo soprattutto dalle altre forze dell'ordine e anche una telecamera di fronte all'ex ospedale in Viale delle Fosse.